Voi? 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 Sì. Grazie a tutti. 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 Tu... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. che... 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 La tua e il pe che fa correre il nubo, che dava al sol. Come la mia! La tende a la fogueta delle formigueti, che andava a nascere. Oh! E la pata pati? La mia fort è la nena patiton, che tolano i oio. La nena patitona? E la nena patitona? Ah, la mia fort è la nena patitona? E la nena patitona? Oh! E la nena patitona, che es forza! E la nena patitona, che andava a nascere. E la nena patitona, che andava a nascere. Oh! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info